Indetto per lunedì 10 alle ore 17 un consiglio comunale straordinario che si terrà a Palazzo del Carmine sulle problematiche riguardanti la mobilità delle aree interne della Sicilia, la richiesta nasce da due consiglieri del Partito Democratico, Francesco Dolce e Annelisa Petitto, primi firmatari del documento di convocazione indirizzato al presidente del Consiglio, Lela Montagnino. Il civico consesso sarà aperto a tutte le forze sociali, invitati deputati regionali e nazionali. Quali sono le iniziative che porterete avanti per combattere rispetto al nostro territorio? Allora si è stato richiesto da me dal consigliere Petitto e ha trovato l'adesione fin dall'inizio di tutti i gruppi consigliari di minoranza e di maggioranza. In questo caso non devono esistere, non esistono colori politici. È una battaglia che il nostro territorio deve portare avanti con l'aiuto di tutti, con le istituzioni, con le imprese, con le forze sindacali e con i cittadini. È un consiglio comunale a nostro avviso fondamentale. Ce n'era già stato uno a gennaio 2014. In quel consiglio erano state date delle direttive, un incarico all'ANAS, di fare uno studio di settore per capire anche la fattibilità delle opere di compensazione che erano state previste. C'è stato un atto di indirizzo del Consiglio comunale in questo senso. Da allora tutto tace. Nel frattempo il decreto sblocchitalia è stato avviato. Sono previste delle opere fondamentali per il nostro territorio, quale è l'alta velocità a Palermo-Catania e in questo Consiglio comunale discuteremo proprio di questo. Raddoppio 640, opere di compensazione e alta velocità. È un Consiglio comunale aperto. Abbiamo invitato volutamente sia le istituzioni al territorio di Caltanissetta ma anche di Agrigento e di Enna. Questa è una delle ultime occasioni per fare sistema ed evitare che il nostro territorio, il territorio della Sicilia centro-meridionale, venga ulteriormente marginalizzato. Grazie a tutti. Grazie a tutti.